è sopravvissuta la prima uscita il battesimo è stato fatto sono felicissimo bel battesimo pesantino ma guardati adesso no facciamo in tempo a fare un pezzettino ancora se tu me lo chiedevi dieci minuti dopo essere partito ti dice guarda torno indietro portami al furgone portami al furgone non ce la faccio più invece adesso sono contento perché comunque poi sai comincio a prendere un po' di dimestichezza però la pago sui posti portami quello ci sta però sono felice ed è tanto vieni